Ti piacerebbe, vero, sapere che fine ha fatto il nostro amico dalla Russia col furgone, eh? Vero? È stato il video più visto del 2024, abbattuto anche il BTP valore. Secondo me voi l'avete guardato soltanto perché ci avete cliccato sopra sperando che fosse un video di geopolitica, quello in cui si parla male o bene della Russia, e invece no, e non è neanche un video di geopolitica quello dove si tira fuori la palla di cristallo per dire quale mercato andrà bene e quale no. Ecco invece è un banale video in cui vediamo la situazione del nostro amico italiano emigrato in Russia e rimasto di fatto senza la sua attività imprenditoriale a causa delle sanzioni e con un enorme dente avvelenato, devo dire, nei confronti dell'Occidente. Costretto a vivere per vari mesi venendo in Europa, prendendo oro dalle sue cassette di sicurezza e riportandolo in Russia per venderlo in cambio di rubli, adesso si è finalmente trasferito in una città asiatica più che altro per farsi operare, e ha avuto anche un altro piccolo incidente, ma tranquilli, tranquilli, sta bene, sta bene. Si è lanciato in investimenti in Iraq e Colombia, giacché quelli in Iran li considerava ormai troppo sicuri e tranquilli. Ecco qui sono due spezzoni tratti da Dovlei differenti, di cui la seconda mi ha dato lui stesso le risposte alla prima. Ho censurato qualche sua affermazione per evitare di suscitare polemiche e, per poco indicio, censurerò anche ogni vostra affermazione che è esageratamente e immotivatamente votata solo al litigio. Ciao a tutti e buona visione! Torniamo dalla Russia con furgone, ritorna è quello che susciterà grande scalpore nella chat. Pronti? Via! Allora, vedo che stai rimonetizzando le mie disgrazie nel tuo canale. Ed è vero, il suo video ha superato le 80.000 visualizzazioni. Sentiti pure in cortese obbligo di inviare adeguata percentuale chiaramente in Krugerrand e dopo vi vedrete cos'è. A proposito, eh ecco, spira che non si comprano i lingottini mai. E qui ce lo dice lui, quindi è un esperto, perché vi ricordo che lui ci vive, ci viveva perlomeno con questi soldi, quindi se non è esperto lui, i lingottini casomai si comprano da 400 once good delivery oppure da un chilogrammo in una fonderia riconosciuta a livello internazionale. Però, quanto costa un lingotto da un chilogrammo? Scusate, andiamo subito a vedere. E' so' 56.000 euro un lingotto. Vabbè, 400 once, quanto è un oncia? Eh, cioè, sono 11 chili. Come facciamo a comprare i lingotti da 11 chili o da un chilo? Vabbè, chiamiamoli lingottini. I lingottini spesso non hanno mercato, perché vanno assaggiati e i compratori non si fidano. Quindi si perde molto in fase di vendita. E per il resto si comprano Krugerrand, ve li faccio vedere, me li sono andati a guardare. Il Krugerrand, moneta d'oro sudafricana, quanto pesa? 34 grammi quasi. Ah, c'ha varie grandezze il Krugerrand. 34, 16, 8 e 3 grammi. Torniamo ad Alla Russia col furgone. E' la moneta più diffusa e più conosciuta in tutto il mondo. Ha il costo di conio più basso. In alcuni paesi il cap gain sulle monete è esentasse. Essendo così diffuso ovunque, sanno come verificare che non sia falsa, quindi è facile da rivendere a quotazione molto vicina allo spot. Siamo a XXX. Lui me l'ha scritto e io gli ho chiesto, vuoi che lo tenga nascosto? E non mi ha detto niente. Quindi non avrebbe nessun problema a dire esattamente dove. Però io ho detto, vabbè, evitiamo che poi qualcuno magari lo riconosca lì o roba del genere. Comunque sappiate che è in una città asiatica. Sparte voi quale. Ce n'è più di una, eh? Caldissima, romanosa, inquinante, folle ma entusiasmante, megalopoli, dove ho trovato eccellenti studio sanitario e tante distrazioni per evitare depressione e causa del mio stato di salute. Vi ricordo che stai rischiando di perdere la vista, eh? Ho subito due interventi e sono in attesa delle volverse della situazione. La Russia mi ha rimborsato l'80% dei costi sostenuti in 12 giorni. E qui iniziano le cose un attimo controverse. Quindi 34.000 euro spesi, Vladimir gli ha rimborsato l'80%. Quindi sanità di quel posto, privata chiaramente, mi sembra perfetta. Non ha mai atteso oltre dieci minuti ai vari appuntamenti. 80% rimborsato da Vlad. Comunque 80% rimborsato dalla Russia, tanto di cappello. Non so se l'Italia, se uno va in una città asiatica a farsi operare, viene rimborsato. Lo scorso weekend... Lui ha tenuto ancora la residenza, eh? Mentre si è fatto operare. Lo scorso weekend ho avuto una nuova occasione per testare gli ottimi servizi sanitari, dopo aver tentato di mostrare a mia moglie di essere ancora in ottima forma ed in grado di domare uno skateboard. Faccio notare che non è più giovanissimo, eh? Risultato? Frattura al polso sinistro. Al polso soccorso ho teso una decina di minuti e sono riuscito con radiografie tuttora in meno di un'ora. 170 euro circa alla spesa. Comunque al polso soccorso di Trento anch'io ho teso solo due ore perché c'erano casi più gravi del mio e poi in alta un'oretta sono uscito con un bellissimo gesso alla caviglia. E però zero di spesa. Dopo aver trasferito la residenza, qui dopo aver trasferito la residenza, sono riuscito a far sbloccare parte dei miei fondi, che ricordo sono in Europa occidentale, dagli ignomi maledetti. Gli ignomi sono un nomignolo per i finanzieri bancari e a trasferirli. Sto litigando con altri ignomi per il restante. Il portafoglio di azioni russa è invece sempre bloccato dalle sanzioni. Io ho tagliato le cose troppo controverse, che poi mi avreste devastato la chat. Per il resto siamo molto soddisfatti della scelta fatta. Goditi il tuo 43% di tax rate. Qua non avendo reddito e investimenti locali non pari imposte. Però anche qui in Italia se non hai redditi non pari imposte. Oddio, in teoria dovresti pagarle. Però io conosco gente che più di dieci anni fa, quindi è caduta in prescrizione, insegnava in Italia e insegnava in un paese molto extracomunitario e a nessuno dei due comunicava una mazza. Quindi pagava le tasse separatamente, non cumulava alicote. Quindi in teoria. Poi devo dire, io non so la città dove abita lui com'è. Fuori dai quartieri, bene. Però a Trento puoi andare anche nel quartiere più brutto che c'è e diciamo mangi sul marciapiede senza grossi problemi. Cioè è tutto lindo, perfetto, pulito. 43% tax rate, insomma, lo paghiamo non a caso. Sono italiano orgoglioso di esserlo. L'Italia è un paese meraviglioso che buona parte degli abitanti non merita e declina in primi sociale e culturale. Lui ce l'ha molto questo declino culturale. Io ho tagliato parti che avrebbero fatto esplorare la chat. Vi fate invadere da migranti, fate la coda per ore per vedere la Ferragni e non alzate la voce quando non ci sono soldi per scuole o ospedali. Io coda per la Ferragni non l'ho mai fatta. Ma secondo me anche in Russia si fa le ore di coda per vedere chi, Cocciante, oppure qualche cantotore italiano. Se vanno i pui in Russia, secondo me, fanno le ore di coda anche lì. E beh, effettivamente, vede, Matteo dice una cosa giusta. Cioè lui giustamente è incattivito contro l'Occidente. Gli ha bloccato i fondi. Purtroppo ti mando... E questo è il follow-up. Follow-up di direttamente stamattina. Ti mando queste email all'ospedale. Poco prima di pranzo sono svenuto e non è un buon segno. Ah no, scusate, ho tagliato il pezzo più importante. Mia moglie è in dolce attesa. Essendo lei molto tradizionalista, ha insistito per restare incinta a lei e non come io, come invece sembra sia oggi di moda in Occidente. Lo informiamo che in Occidente parti maschili, umani, non se ne sono ancora visti, che io sappia. Ha messo gli stop-loss sugli short del Nasdaq, perché ovviamente lui short agli Stati Uniti, secondo me è perdente avvelenato, perché ovviamente fa una brutta fine. E ora chiude l'aptop, altrimenti mia moglie mi uccide. Il mio portafoglio al scenario di aziende che producono roba fisica e tanta CO2, ce l'ha anche col cosa, con l'ESG, registrava die giorni fa più 260 circa oltre dividendo. Ricordo che lui fa stock picking, anche grazie ai simpatici Houthi che hanno fatto esplodere le mie posizioni su shipping, che hanno fatto esplodere qualcosa e in più anche le sue posizioni sullo shipping. E mantengo tutte le posizioni precedenti, eccetto Uranio, dove l'ho aggiorito parecchio. Mi sono accorto che la telecamera nel frattempo è andata, sono passato a quella di riserva. Se volete copiarlo, sapete dove andare. Shipping che era esploso per via dei problemi nel canale. Non YouTube, penso che sia uno dei canali, vari canali che ci sono al mondo, su Edspanama. Ho rinvestito i proventi in una nuova posizione, ovviamente insiste, in una nuova posizione short sul Nasdaq, adesso ha messo gli stop loss, che sono pronta a incrementare parecchio fino a giugno. I miei short erano finiti in stop con un paio di punti di loss. Ammetto di aver sottovalutato la resilienza degli USA, capitanati dalla suprema guida Joe e il figlio Hunter. Andrea dice, professore dove vive su Marte, tutti i TG stanno parlando degli UTI che bloccano il canale di Suez. Adesso vi spiego una cosa, ragazzini. Allora, io ho ascoltato telegiornali dal 1900, ho ascoltato capendoli dal 1976, ricordo visto in diretta, e il rapimento di Moro, e l'attentato a Giovanna Papa Wittila, fino al 2005. A un certo punto ho fatto un attimo di riflessione, ho detto, ma stanno dicendo le stesse cose da, 86, 96, 2006, da 29 anni, che rottura? E ho smesso, punto, basta, non li guardo più. Quindi per me, niente, mi scivola. Voi vedrete che il fatto che gli UTI abbiano attaccato il canale di Suez, tra due anni non solo non se ne parlerà, ma non se lo ricorderà più nessuno, proprio zero. E quindi ho deciso che smetto di guardare i telegiornali, che vedevo di? Mi sono stufato un attimino, eh. E faccio notare che dal 76 a tipo l'83 non c'era nient'altro da guardare, cioè o guardavi quello, o guardavi TG1 o guardavi TG2, non è che c'era tante altre opzioni. E anche dopo, torniamo a lui. Solo a me sembra che questo tizio sta poco bene, si lamenta del declino occidentale, ma in Russia l'Occidente lo può criticare ha ragione, ma se vai in un posto che è peggio, sto da ogni punto di vista. Ma lui è più tradizionalista, eh. Quindi a lui la Russia da molti aspetti va bene. A parte che in Russia adesso non lo è più, e secondo me è in un posto che è meno tradizionalista dell'Occidente. Comunque. Andrea, quello che ha fatto l'eclip fino adesso, ha gratis. Sto purtroppo valutando di chiudere posizioni che con fatica aveva aperto anni fa in Iran. Temo possa diventare zona calda molto presto. Ed infine proprio oggi ha investito 5% del patrimonio. 5% cioè, che il suo patrimonio non è piccolino, eh. Non sappiamo quanto ha, anche perché me lo sono dimenticato e poi bisogna vedere quanto l'oro ha preso. Comunque 5% del patrimonio in due micro cap. Una in Colombia e una in Iraq. Ora. Cioè, lui ha preso due aziende. A parte il fatto che io non so come abbia fatto a prenderle. Me lo dirà lui. Non esiste neanche l'ETF sulla Colombia, men che meno sull'Iraq. Lui è andato a cercare due aziende. Per di più piccole, quindi che sono il Kebabaro di Baghdad. Lo possiamo chiamare il Kebabaro di Baghdad in questo caso. E ha beccato, zack, il Kebabaro di Bogotà e il Kebabaro di Baghdad. E l'anguriaio di Baghdad, dai. E quindi il Kebabaro di Bogotà e l'anguriaio di Baghdad e lui ha comprato, tac, tac. Ok. Sì, sì, lui è un fan. Se il regime non è totalitario, lui non ci investe. Vorrei suggerirti una riflessione in merito a quanto accade oggi con i fondi ETF su Cina e Hong Kong, dove importanti redemption causano la vendita, sì di big caps troppo care, ma anche di tantissime profittevoli, sane small caps con PE minore di 3. PE è il rapporto price earnings, il rapporto tra il prezzo di borsa e quanto rende all'azienda per ogni azione. Di solito il PE ve legge anche tranquillo sul 10 e pure sul 20. Cioè vuol dire che il prezzo è il triplo dei guadagni che fa ogni singola azione. È il triplo, il ventesimo, quindi scontro è il futuro. E lui dice che ce ne sono alcune molto, queste qua sono quelle che sono ovviamente a basso prezzo, quindi molto convenienti. Aziende che producono roba, beni essenziali, non AI con tanta AI e poca AI. Il mondo va avanti lo stesso senza invidia, mentre c'ha il dente avvelenatissimo con le americane, mentre senza fertilizzanti, plastica, chimica in genere, con poco lavoro, c'è un'occasione succosissima. Ricordo che fa meglio investing, eh? Più che educato e finanziato, lui è scettico e currerato. Salutiamo dalla Russia con furgone, ci sono prove che sia una persona vera con soldi veri investiti in queste cose. No, di solito suppongo che uno non abbia così tanto tempo, perché poi lui mi scrive anche altre cose, quindi ho tempo da perdere per scrivermi. Dite che sia uno che magari, che so, è un pensionato, che sta alla bocciofila qua di fronte e mi scrive immaginandosi con la moglie russa incinta in una città asiatica all'ospedale. Cioè, gran lavoro. E lo assumerei come sceneggiatore di qualche sopopera. Brutto e spavento, ma sono ancora vivo. Si è trasferito nell'altra torre, quindi sappiamo che abita in Palazzoni. Ricordo che abita in una capitale asiatica. Lui aveva detto qual è, io non ho voluto dirlo, perché sennò so che andate lì a trovarlo. Ho guardato il tuo ultimo video e fa ancora risposta. Ho dovuto censurare qualche sua risposta, perché sennò si scarrerà troppo controversa. Si dissocia dal parallelo tra la Ferragli e Cocciante Albano. Non lo so, probabilmente ho fatto questo parallelo in un ultimo video e la Ferragli, scusami... La Ferragli cosa? Secondo me intende Ferragli. È una ditta che produce acciaio. No, poi meglio ho fatto dei paragoni... Vabbè, ok. Tasse, ci paga... Semplicemente leggo la sua mail. Ci parla di tasse e ci ricorda che Singapore, Thailand e Hong Kong sono paesi a tassazione territoriale. Quindi abbiamo scoperto che in uno di questi tre ciò significa che i tassi sono tassati solo sui redditi prodotti localmente, non su quelli esteri. Nel mio caso, ad esempio, non sono tassato su cap gain e dividendo interessi dei miei attivi detenuti all'estero. E poi dici che c'è un paese a me vicino, insospettabile, dove esiste tale possibilità a determinate condizioni. Che sia la Svizzera, che sia l'Austria, che sia San Marino. San Marino. Dicono San Marino. Suggeriscono San Marino? Catanzaro. Il Vaticano ha scritto. È provato a portare gli investimenti al Vaticano. Qualcuno sostiene che si sia inventato tutto. Ora, cioè, deve fare veramente un grosso sforzo. Se volete, gli chiedo una foto nel posto, però potrebbe averla traboccata. Va bene, però attenzione che va avanti e ci dà consigli finanziari. Lui. Lui. No, no. Consigli generici, non personalizzati. L'altra volta vi ricordo che aveva investito in Iran, perché lui, il Messico è troppo... Troppo mainstream ormai. Innanzitutto l'Iran è un paese molto più sviluppato in quanto l'occidentale è meglio ci aspetti e ha tradizioni e ha una storia millenaria notevole. Ho iniziato ad investire e ho fatto in diverse occasioni. Valigia leggera e biglietto aereo. Ok. Va bene. Sì, va bene. Veniamo ora ai miei investimenti recenti. Aspetta Guido, senti questa. Iraq. Ok. Qui l'ho dovuto smussare un po', perché come saprai esistono moltissime royalties company, no, non lo sapevo, ovvero aziende che generano utili tramite lo sfruttamento registrazione. Recentemente il Parlamento Iraqena ha votato per mandare a casa gli americani e non avevo dubbi. Ma tra l'altro mi stupisce che ci fossero ancora americani, cioè ha dovuto votare al Parlamento, vabbè, invitandoli ad abbandonare il paese dopo anni di occupazione. Inoltre è stato annunciato un accordo Taiwan e Omissis. Omissis l'ha messo lui. Di conseguenza ho prontamente acquistato quote di un'azienda che tenevo sott'ocche che detiene interessanti diritti di sfruttamento. Azienda che potrebbe di colpo volere i parichi ho terminato l'occupazione americana. Vabbè, tra l'altro market timing che ci stiano ancora americani in Iraq. Mi sono perso tutti i vari giri, abbandoniamo, lasciamo questo paese, eccetera. Non so se ci sono più nessuno. Vabbè, in effetti. Dopodiché scatena sulla Colombia. Ok. Questo finisce a pezzetti abbandonati in qualche deserto. Povero. Perché ha miseria. Alto che il veglio investing di pietro. Ma ha acquistato quota di un'azienda non ci dice se un'azienda irachena o un'azienda tipo americana con... Ah, è vero, potrebbe... No, non pensi americana perché lui punta alla dismissione della recuperazione americana. Royalty's Company, aziende che generano utili tra gli sfruttamento di brevetti o diritti. Sì, vabbè. Vabbè. Non ci vuole dire cos'è per evitare che poi inflazioniamo il prezzo. Ma ormai l'ha comprata, potrebbe dircelo così. È vero che non ci sono ETF sulla Colombia perché vi ricordo che l'ultima analisi che avevo fatto alla Colombia era il paese che rendeva meglio, che ha reso meglio nella storia. Ma esistono molti fondi. Esistono fondi che investono in Colombia, davvero. E puoi anche comprare una manciata di azioni singole tramite le rispettive ADR. Ricordo che le ADR sono sostanzialmente dei certificati che riflettono il prezzo di azioni. Sono di solito tipici americani. Nel mio caso detengo a tempo posizioni in Ecopetrol e insieme ad un amico del quale ti ho casualmente già accennato tenevo sotto controllo un fornitore di attrezzature di Ecopetrol. Azienda molto profittevole ma con alcune criticità che recentemente sembrano risolte. Di conseguenza ha investito come tramite un piccolo broker svedese che da anni copre Frontier Markets Colombia inclusa a simmetria informative. Scusa ma questo sta in Thailandia usa un broker svedese per investire in Colombia. No ma più che a simmetria informative qui a simmetria di tassazione se fai sta roba in Italia cioè quadri e revu si sprecano. Sì infatti. Poi l'altra volta c'era scritto The Great Taking e io ho dato un'occhiata veloce e l'ho registrato di un libro che affronta un termine importantissimo che ti rassumo in seguito. Qui cita un articolo del Corso Civile molto noto è quello che dice che quando depositi dei soldi i soldi non sono più i tuoi diventano della banca e tu vanti un credito nei confronti della banca è un articolo del Corso Civile italiano ok il libro che ti ho consigliato spiega con dettaglio che la stessa cosa avviene oggi con gli strumenti finanziari in deposito presso il tuo broker mi spiace ma non eri proprietario dell'etf sulla Russia che ti hanno liquidato come di nessun altro strumento finanziario presso il tuo broker o banca bisognerebbe vedere questa cosa bisognerebbe perché poi vabbè tanto a parte che se sei proprietario ma non ci puoi mettere le mani sopra poco cambia però sarebbe da vedere questa cosa se sei veramente il proprietario dei tuoi cioè quindi se uno che te li usa e li sta usando abusivamente o no insomma secondo me non so dal punto di vista giuridico esattamente come funziona ma comunque in realtà poi alla fine è anche poco rilevante perché cioè poi dipende se ci sono o no anche un sistema che si basa molto sulla fiducia cioè anche fossi proprietario ma crolla tutto il resto non è che valga nulla fischiandose Svizzera il Parlamento svizzero ha votato per la confisca dei beni russi congelati e qui c'erano delle parolacce che ho dovuto cancellare ti ricordo che il mio portafoglio di azioni russe che quota 7.1 milioni quota ora 8.4 beh il problema è questo quota è bloccato in quel paese di nuovo delle parolacce contro contro chi gli ha bloccato i fondi quindi lui ha presso un broker svizzero delle azioni russe parolacce in italiano Damiano in italiano sì lui ha evidentemente delle azioni russe è presso un po' casicero vabbè poteva usare progress vedesse no ma gli insegna ovunque lui ha fondi ovunque e qui poi si scaglia anche contro qualche locale il tubo consiglia continuo e fastidivo ma con tutti i soldi fate gli uti un premium ma è fatto 10 euro al mese su del metodo U non diciamo chi ok comunque avevo il suo libro l'ho buttato via dove ogni settimana promuove risultati ottenuti da uno dei suoi allievi perché non propone il metodo Coletti perché un po' agli allievi un'azione a casa il lunedì e il venerdì premi quella che ha guadagnato di più esatto vedete che un po' se ne intende allora d'ora in avanti comprate un'azione a casa il lunedì scrivete quale e poi io prenderò quella che è andata meglio e dirò che ecco che lo scrivono di chi è benissimo buona serata niente ci auguro buona serata e lo salutiamo ottimo questo non era un caso da analizzare perché ormai lui non lo analizziamo più ormai ormai o me è lui la sua storia e poi andremo avanti ti piacerebbe vero puntare tutto su mon esotici far finta di essere educato e finanziato ma puoi affidarti alla roulette ti piacerebbe vero sapere sapere ti serve per smettere di lavorare a negare per smettere per smettere